Benvenuti ragazzi su questo canale di HomeSanway Quest'oggi si tirerà il video più basso su YouTube Italia In che direte, ma perché ho un rasoio in mano? Perché quest'oggi l'ultimo che beccherà la traversa Si taglierà, si raserà i capelli ragazzi E funziona! Ebbene presentiamo i partecipanti 3, 2, 1 Ragazzi abbiamo chiamato i partecipanti più drill e maranza Si stanno accoppiando Abbiamo chiamato i partecipanti più drill e maranza d'Italia Ragazzi direttamente Da ogni piattaforma social, Instagram, TikTok, Youtube ci siamo Buona Io comunque vorrei dire, mi sono già fatto pelato una volta Non vorrei replicare Non è neanche un bel ragazzo tra l'altro Quindi ragazzi quest'oggi per i più coraggiosi che siamo noi Che abbiamo deciso di partecipare a questo magnifico video Ci dovremo rasare a zero Quindi l'ultimo che beccherà la traversa si raserà a zero Adesso andiamo a presentare direttamente i partecipanti E poi iniziamo con questo video Ma prima di continuare col video ragazzi vi voglio parlare di World of Warship Uno dei migliori giochi sul mercato di battaglie navali Qui si gioca in squadra ragazzi e ogni partita richiede tattiche e strategie diverse Per cui è possibile divertirsi assieme ai propri amici in divisione In questo gioco ragazzi sono disponibili più di 600 navi storiche Distribuite in 13 nazioni diverse Suddivise in 5 diverse classi Caccia torpediniere, incrociatori, corazzate, portaerei e ora anche sottomarini Ogni classe offre un'esperienza di gioco diversa È possibile controllare le proprie navi in splendide mappe Con paesaggi unici e vivi Con una grafica mozzafiato e meteo che cambia durante la battaglia Le navi sono progettate sulla base di documenti storici e progetti reali della prima metà del XX secolo Il che le rende ancora più realistiche Mi raccomando ragazzi se registrate l'account tramite il link in descrizione Riceverete un esclusivo starter pack per iniziare la vostra avventura in grande stile Cosa aspettate ragazzi? Scaricatelo dal link in descrizione E ora procediamo con un magnifico video Grazie a tutti Ci siamo ragazzi O io li vedo dai due capelli Chissà che quello che si raga avrà la testa così Primi turni da centrocampo signori e poi ci avvicineremo piano piano Allora parte Ibra Io ragazzi ci tengo i miei capelli non voglio farmi riladare Dai 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 Vai Ragazzi forse è la prima challenge dove sono tranquillissimo Vi ricordo ragazzi che tranquillo è morto il culas La p*********a La p******a Ma c'è il sotto caparca all'Oltaglio più Maranzà d'Italia Non rinunciamo Ooooooooooo C'è il sotto caparca I cappelli ci tengo tanto sta arrivando anche l'estate Le piccoline EEEEEEEE le piccolini Fai vedere le piccolini cosa fanno Rinvi Rinvi dal fondo Ragazzi l'estate sta arrivando I capelli bianchi stanno arrivando Porta Sono Adrian Cristiano, campione mondiale di No Parla Tanto 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 Scusate se mi intrometto ma non dovremmo esultare Ma perché avete esultato per sempre? Perché è stato il primo L'emozione giusto Allora Adrian si salva da questa penitenza Vai amore vai Non bisogna parlare tanto Calma can Calma can Calma can Calma can Allora questi capelli sono storici Ci tengo Non voglio fare Questa è arrivato il momento Oh 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 Quasi Non penso che sia il momento di darci un taglio Vamo carallo Non pensi che sia il momento di darci un taglio? Vabbè vado al football L'algerino bianco Ho il cappellino per un motivo Let's go Ma lei non lo sappiamo però Ragazzi ricordatevi questo tipo Ricordatevi questo tipo Ce lo scorderemo molto presto mi sa invece Attenzione direttamente Il re di Rabat Vediamo Alla dentro Lui si sta preoccupando per i suoi cappelli Mi dispiace ma oggi sarà il tuo giorno Vai afra Sì se l'hai un po' troppo lungo No 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 dai Sì 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 Su qui Io mi finisco La prende la prende la prende La prende la prende Uuuuuh Entro Prendo la traversa Ciao L'ha detto L'ha detto Secondo turno ragazzi Sì sicuramente perderò il conto dei turni Però già che abbiamo appena iniziato Primo turno Si è salvato solo Adria Non parla tanto Signori Complimentoni Si è salvato Non parla tanto E adesso procediamo col secondo turno Oh 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 Guarda io signori Vai star Oh 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 Mannaggia Oh 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 Eh no Eh no Non vale E' l'isley E' 4K E' 4K E' 4K Oh 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 Quasi Secondo giro è andato nessuno di noi è riuscito a beccare la traversa Amo dai Quindi facilitiamo la situazione Facilitiamo Facilitiamo Sì Facilitiamo Allora ci avviciniamo leggermente Parti Abito Ce la regala Oh Quasi Traversa Easy Autosharing Ragazzi ora la prendo mi dispiace Ragazzi qua sinceramente ci vuole un po' di magia giugiu La magia giugiu La magia giugiu La magia giugiu Tipo dai Porta Aiaiaiaiaiaiai Qui male male oh Volete tutti tagliarvi i capelli? Come funziona? Nooo Nooo Perché non funziona ragazzi semplice Belle respiro Capi, racconto Nooo E allora ragazzi quarto turno adesso chi la prende può decidere di salvare ma anche un'altra persona Bella Quindi ci si salva in due signori La palla non mente mai Niente Ma ci rasiamo a zero tutti Ma punta, sali tuoi capelli Adesso sta male ragazzi basta giocare non gioco abbiamo riuso abbiamo scherzato non si gioca più E quindi adesso devo scegliere chi salvare Parcalino parcalino Ambarabaccic coco Questo parcalino a chilo do Eeeh 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 Ambarabaccic coco Eeeh Che devo fare? Sì caraglio Brandeo 2 a 0 Eeeh Sei un brasiliano di me Andiamo avanti Allora, ricordi che ho già i più forti, ragazzi, ho una grande scelta adesso, però do precedenza E ci salvano ragazzi e quindi andiamo avanti, mancano sempre meno partecipanti e vedremo chi si raserà a zero a fine video Vediamo chi la prenderà questa traversa C'è uno youtuber che fa video da sette anni, non può, non sa per prendere una traversa Sta di nuovo a Pierino E' finita la quinta manche, noi ci siamo salvati Mi dispiace per voi, sono rimasti in uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette partecipanti Vedremo chi si raserà a zero Let's go! Adesso ragazzi voglio aiutarli, quindi ci avviciniamo ancora un po' e arriviamo a calciare al limite dell'aria Dalla lunetta Dalla lunetta Grazie Samu, è l'unico modo Ci avviciniamo Vabbè per libero non cambia niente, non rimorchia neanche adesso, non rimorchia neanche da pelato Nooo, no, no, Pier, no Io posso perdere tranquillamente, non è un problema Bacallina Marapuzza C'è entrata la porta, è incredibile Musica La presa La bar ha detto rete, mi dispiace Attenzione parte Momo Lui è quello che ha comprato il mio sorello Muha-bba Oh Oh Parte Ibra Ecco Bene Bene Ragazzi si stanno innervosendo Attenzione sta salendo, si stanno innervosendo ragazzi Si stanno innervosendo e quindi Niente Ma raga non può essere impossibile La prende La Pierino Come si spiega non ci voglio diventare Eh? Nooo Mi dispiace ma questa non la voglio Adesso ragazzi vi faciliterò la vita perché aggiungeremo anche un bersaglio Che abbiamo messo in porta E quindi O c'entrate il bersaglio e siete salvi O c'entrate la traversa e siete salvi Se no Olè Lente O c'entrate la traversa e siete salvi Oh Bella merda Siete Non prendevo Sì Dubai canale Passaggio Potremmo prendere la traversa Niente Cheico di Dubai Dov'è? Bravo 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 Buon piano Fra Assisti! Assisti no! Let's go! Bernardo dal 3-0! Posso salvare qualcuno? Non salvo nessuno! E si salva anche Ibra signori e quindi rimangono ancora pochi partecipanti Ibra, è benissimo è benissimo è benissimo Ibra ha fatto traversa con quella Ragazzi voglio darvi la mano 4 palloni di fila chi se la sente tirare i 4 palloni di fila se la becca con un pallone è salvo se invece spreca i 4 palloni automaticamente eliminato si dovrà tagliare i capelli anche lui 4 palloni vai! o traversa o cerchio hai 4 palloni si sbagli 1 e 2 signori 2 2 palloni oh oh ragazzi l'ultimo pallone photoshop raga l'ultimo pallone 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 attenzione vabbè era già 0 però vado io vai te vado io vado io vai oh l'ultimo pallone l'ultimo pallone ma cosa sei nato che non ha niente oh oh avatar vai di nuovo oh 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 da che ci sono vado un attimo di là allora ragazzi questo magnifico video si conclude qua io ringrazio tutti quanti i partecipanti per aver partecipato ci siamo salvati stavolta vi siete salvati però la prossima volta il ppega non lo faremo partecipare e quindi vedremo che si raserà a zero tra di voi ah c'è la seconda parte eh sì c'è la seconda parte io voglio eccolo eccolo il prossimo non è vero no no bisogna vedere cosa sotto le tre c'è ragazzo dal circolo tennis italia è tutto bella viva balanza wow 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 Grazie a tutti.